parlare della crisi in Ucraina, abbiamo chiesto cosa preoccupa maggiormente gli italiani, lo vediamo col cartello 3, 59% preoccupato per il possibile scopio di una guerra in Europa, ma un italiano su tre è più preoccupato per l'aumento delle bollette e dei carburanti collegato a questa crisi, non che non siano preoccupati ovviamente dello scopio della guerra, ma lo giudicano poco probabile, mentre l'aumento delle bollette è una certezza. Ultima domanda.